Tre gol fatti, clean sheet, punti presi a Lazio, Fiorentina e Napoli e vittoria convincente prima di una partita fondamentale. Questa qua è stata la domenica di noi romanisti e francamente sono contento. Una partita non entusiasmante, magari il punteggio secondo me inganna anche perché la Roma non meritava di vincere in maniera così larga, ma fatto sta che la Roma vince in maniera larga, convince sicuramente per quanto riguarda poi il risultato. Prestazione, così e così ci si può lavorare, ma quello che contava oggi era vincere e si è vinto, vinto anche bene fra l'altro. Però prima di parlarne iscrivetevi, like e commento qui sotto e seguitemi che è fondamentale anche sugli altri social. Detto questo allora un primo tempo di grandissima sofferenza, anche troppa, nonostante comunque allo stirpe tante squadre abbiano faticato mi aspettavo una partita un po' più tranquilla, un po' meno diciamo movimentata, invece svilare è stato fondamentale per diciamo per tenere a galla la Roma in un momento in cui il Frosinone spingeva tanto e la Roma arrancava. Poi però c'è il gol che svolta la partita di Hausen e che gol e che gol, ora ci arriviamo. E poi comunque di lì è in discesa, nel secondo tempo una sofferenza molto più diciamo tenuta sotto controllo e poi la Roma fa il 2, fa il 3 e manda tutti quanti a casa. Oggi era fondamentale comunque vincere per non perdere terreno rispetto alla Champions che corre, Atalanta e Bologna in testa, ma anche per allungare su quelle che ti stanno dietro. Napoli, Fiorentina e Lazio, tutte e tre hanno perso punti in maniera diversa, con partite diverse, ma tutte e tre hanno perso punti per strada questo weekend e quindi era fondamentale comunque allungare su loro e appunto per non perdere di vista l'obiettivo quarto posto, anche se quest'anno poi va tenuto in considerazione anche il quinto posto, perché il quinto posto non è il sesto quest'anno, o comunque potrebbe non esserlo, visto che anche la quinta di due campionati europei andrà in Champions, cioè comunque visto che la quinta italiana potrebbe andare in Champions se dovesse rientrare nella top 2 delle, comunque se l'Italia dovesse rientrare nella top 2 del ranking UEFA, è fondamentale anche arrivare quinti, se si dovesse flopare l'obiettivo quarto posto, ecco la morale è non adagiamoci ad arrivare in Europa League tranquilli, anche magari come sesti, perché quest'anno il quinto posto potrebbe significare qualcosa di più, quindi è importante anche puntare il quinto posto, ecco quello che ha fatto per esempio l'anno scorso la Roma a fine campionato, abbandonando il campionato, puntando tutto sulla Coppa, quest'anno sarebbe molto più costoso in termini proprio di opportunità, per via del quinto posto che potrebbe appunto valere la Champions League. Hausen comunque oggi secondo me è un po' il simbolo di questa partita, Hausen croce delizia, secondo me perché gioca una brutta partita, al di là del gol sbaglia tanto in fase di impostazione, non so se onestamente ha sofferto molto il fattore ambientale perché l'hanno massacrato, fischi, cioè comunque non è stato un ospite gradito, capisco anche ovviamente i tifosi di casa che, avendo visto una sorta di tradimento della fiducia di Hausen, che comunque aveva quasi dato la sua parola al Frosinone, salvo poi di mangiarsela per andare alla Roma, capisco questa, diciamo, questo atteggiamento un po' duro con lui, però fa un grande gol, vi ripeto, ha sofferto secondo me molto questo ambiente particolarmente ostile nei suoi confronti, infatti ha sbagliato molto in fase difensiva, ma con il pallone fra i piedi ha fatto un gol eccezionale, veramente eccezionale, è partito, si è fatto 30 metri di corse, l'ha messa sotto al 7 con tanto di due dribbling qua e là, giusto per non farsi mancare niente. Asmun fa un gol che lo premia secondo me, fa un gol importante perché di fatto chiude la partita e quindi archivia la pratica, Asmun, io lo ritengo un professionista serio, non mi faceva impazzire come giocatore, ho imparato ad apprezzare qualcosa di lui durante la sua esperienza romana, però devo dire che comunque oggi da trequartista ha provato a fare il suo e quel gol sono contento perché lo premia, a differenza invece di un Lukaku veramente svoiato, io Lukaku ha fatto benissimo per me a levarlo a fine primo tempo e non credo sia stata soltanto una scelta di turnover in vista del Feyenoord quanto anche una scelta tecnica perché veramente con Lukaku giochi quasi in dieci, cioè giochi con uno in meno di fatto con Lukaku in campo. Ora escludiamo un attimo dal discorso il gol, importantissimo per carità, tanto importante quanto fortunato ma al di là poi di questo, col Feyenoord Lukaku sono due, tre mesi che è veramente nullo in campo e anche oggi lo è stato, ok, non gli arrivano tutti sti palloni, però è anche vero che un giocatore i palloni se li va anche a cercare, soprattutto uno così, e anche quando gli arrivano poi non è che sottoporta sia un cecchino, non parliamo comunque di uno che ha la freddezza, che ne so, di Cardi sottoporta, di conseguenza uno che comunque non è così cinico sottoporta, e uno soprattutto con quella stazza, con quel fisico, dovrebbe sicuramente dare una mano in più, anche in fase proprio di gioco di squadra. Svilar molto bene, Svilar molto bene, nel primo tempo comunque fa tante parate molto importanti, rischia qualcosina nel secondo con quel passaggio un po' così, però comunque ha giocato bene. Ora spero regga, spero regga perché comunque la responsabilità adesso è sua, penso che De Rossi abbia fatto una scelta abbastanza decisa, Svilar non è più solo il portiere di Coppa, ma è il portiere della Roma, il portiere è titolare, quindi giocherà secondo me da qua in poi fino a fine campionato, salvo sorpresa, anche se io non sono mai a favore di nessuna alternanza, quindi mi auguro a questo punto che Svilar giocherà da qua a fine anno, perché fare un po' e un po', salvo l'alternanza nelle coppie che posso anche capirla, ma che ne so, come Musso Carnesecchi inizio campionato, nell'Atalanta che facevano un po' e un po' in campionato, no, no, quindi ha fatto una scelta, spero paghi, spero paghi, sinceramente, nonostante Svilar prometta bene, è un rischio, è un rischio comunque buttarlo così nella mischia, in partita anche molto importanti, perché Svilara, a parte Milano, non ha fatto queste gare così importanti, Mourinho l'ha fatto giocare l'anno scorso, in partita abbastanza, diciamo, tranquilla, a fine campionato, quando la Roma giocava soltanto per l'Europa League, quest'anno ha giocato soltanto nelle coppe, tolta appunto la partita di San Siro, però, oh, speriamo bene, speriamo che comunque se la cavi, oggi ha fatto, vi ripeto, un ottimo esame, secondo me l'ha superato a pieni voti, ci ha salvato, per me migliori in campo, Svilara, a mani bassissime, ha fatto una partita, ha fatto una parata bellissima, nel primo tempo, ma ha fatto anche, più di un intervento, qualche bella uscita, comunque ha dato sicurezza, ecco, ha dato sicurezza, piano a pomparlo, perché è sicuramente uno che deve ancora crescere tanto, però, ecco, ha fatto, comunque quest'anno, nelle coppe, in quelle apparizioni che ha fatto, e oggi ha sicuramente dato una, più che buona impressione di sé, ecco, adesso Tessal Fejenort, che è una partita veramente fondamentale, che, comunque, significa tanto, significa tanto, spero che, il DNA europeo, che mi auguro, Murigno, abbia inculcato, nella Roma, spero rimanga, spero rimanga, e quindi, spero che si veda quel DNA, che ci ha portato a due ottimi cammini, in Europa con Murigno, spero rimanga anche con De Rossi, e spero che si possa arrivare, fin in fondo, anche in questa Europa League, è difficile, è innegabilmente difficile, c'è il Liverpool, che è la grande favorita, che, soprattutto, all'ultimo anno di Klopp, per me farà il mini double, per chiamarla così, vincerà la Premier, ed è una squadra, con ottime possibilità, anche di trionfare, in Europa League, però, però la Roma sta là, la Roma sta là, così come c'è l'Atalanta, è una squadra che, comunque, può farcela, io non vedo, una Roma così impossibilitata, come qualcuno la dipinge, a vincere quella Coppa, difficile, sicuramente difficile, però, intanto, la Roma, in campionato, sta facendo bene, è andata in Olanda, e non ha perso, con De Rossi, quattro partite, diciamo, abbordabili, tra mille virgolette, quattro vittorie, la partita con l'Inter, persa, peccato, però comunque, giochi pur sempre contro la prima in classifica, e in Olanda, un risultato più che positivo, mica male, mica male, adesso, step by step, vediamo col Feyenoord, che è fondamentale, che è veramente fondamentale, per di più in casa, trasformando quella partita, quasi in una partita secca, perché, ci si gioca tutto lì, dimenticandosi, di fatto, dell'andata e del suo risultato, fondamentale, però, sono fiducioso, e questa Roma oggi, nonostante vi ripeto, magari non meritasse di stravincere così, il Frosinone ha fatto una buona partita, sono contento, e vi ripeto, occhio perché il Frosinone ci vuole un niente, ad essere risucchiato, nel vortice della, della lotta per non scendere in B, e soprattutto squadre così, che amano giocare, rischiano tanto, perché secondo me, per assurdo, il Cagliari, che gioca male, che magari gioca col Cadenaccio, che però, è più abituato a fare partite sporche, a vincere, a fare punti fondamentali, per la salvezza, ecco, rischia il Frosinone, mancando quella fiducia, di non riuscire più a esprimersi, e quindi, di essere veramente risucchiato, in quel vortice, attento di fra, attento veramente, comunque, prima di parlarne, iscrivetevi, la, prima di parlarne, prima di lasciarci, iscrivetevi, like e commento qui sotto, e seguitemi anche, su TikTok ed Instagram, ciao ragazzi, e sempre, forza, Roma!